Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Barzotti ed altri ad oggetto iniziativa in materia di sostegno al reddito e contrasto alla povertà in considerazione della relazione del Comitato Scientifico per la valutazione sugli esiti del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza e dei rilievi della Commissione Europea sull'assegno di inclusione. Illustra le interrogazioni di cui è cofirmatario il deputato Dario Carotenuto. Prego. Gentile Ministro, siamo ancora un po' storditi, vi dico il vero, da questa lunga notte in cui la sua maggioranza ha svelato di appartenere tutti voi della maggioranza del Governo Meloni ad un solo partito, quello dei traditori d'Italia. Le difficoltà di chi vive in ristrettezze economiche, cittadini o regioni che siano, per voi sono una colpa, non una condizione dovuta alle scelte della politica. E lo dimostrate sempre con le vostre politiche, che fondamentalmente sono un invito a chi cammina con le stampelle a correre la maratona per sopravvivere. Solo così si spiega il fatto che la cancellazione del reddito di cittadinanza è uno dei primi provvedimenti che avete deciso di cancellare. Solo così comprendiamo come si sia arrivati addirittura a cancellare un mese di questa misura, che serve ai poveri, per aiutare i presidenti delle squadre di calcio di serie A. Il reddito di cittadinanza, voglio informarvi, ha raggiunto quasi due milioni di persone e li ha consentito di uscire dalla povertà assoluta, e questo lo dice l'Istat. E il comitato scientifico incaricato per la valutazione degli esiti del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza, dice che queste misure hanno efficacemente contrastato la povertà e l'esclusione sociale. Purtroppo invece i report della Commissione Europea sulla convergenza sociale dedicata all'Italia bocciano senza appello il vostro assegno di inclusione che l'ha sostituito. E allora, sì, concludo. Oggi la povertà assoluta ha raggiunto numeri record. Solo poche ore fa lo ha ribadito anche la Caritas, non lo diciamo noi. E allora vi torniamo a chiedere di ripristinare il reddito di cittadinanza o di farci sapere come pensate di correggere l'assegno di inclusione che si sta dimostrando un totale fallimento sotto ogni punto di vista. Grazie. Grazie a lei. La Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderoni, ha facoltà di rispondere. Prego Ministra. Grazie Presidente. Il quesito posto dagli onorevoli interroganti torna nuovamente su un tema già all'attenzione del Ministero del Lavoro per l'importante impatto che l'assegno di inclusione sta dimostrando di avere sin dai primi mesi di implementazione concreta della misura. Con il Decreto Lavoro, infatti, questo Governo, alla luce delle evidenti disfunzioni che le precedenti misure hanno mostrato, con l'assegno di inclusione è inteso introdurre una nuova forma, non già di mero sostegno al reddito, ma di attivazione di politiche concrete, di formazione e introduzione al mondo del lavoro in favore di un'ampia platea di beneficiari in effettiva situazione di difficoltà. Infatti, sostituendo un precedente sistema di distribuzione sostanzialmente indiscriminata di risorse a carico della finanza pubblica, con l'assegno di inclusione si è inteso contrastare in modo diretto la povertà, la fragilità e la marginalizzazione sociale mediante misure volte a fornire gli strumenti per un successivo e autonomo inserimento stabile nel mondo del lavoro. Il riferimento in particolare alle misure di supporto per la formazione e il lavoro, con la quale, mediante strumenti di politica attiva e non di natura esclusivamente economica, si è inteso agire non solo e non tanto al fine di garantire un apporto monetario ai percettori, ma soprattutto al fine di consentire loro di creare e sviluppare un set di competenze funzionali e ridare dignità professionale ai beneficiari nell'ottica di una loro indipendenza professionale che li consenta di poter concorrere al progresso materiale della società. E' in questa cornice che occorre leggere i primi dati statistici sui risultati delle misure introdotte da questo Governo, avendo attenzione di non sottovalutare il ristretto arco temporale di attività della norma attiva solo da gennaio 2024, così come pure è imprescindibile considerare il cambio radicale di rotta nelle modalità di attribuzione delle risorse, basato non più su un meccanismo di autocertificazione con eventuale controllo successivo a campione, ma su un efficace modello di verifica a monte della sussistenza dei requisiti in capo ai richiedenti, al fine di allocare in modo efficiente ed efficace le risorse a disposizione. Allocazione che consente di intervenire in modo non solo non indiscriminato, ma soprattutto in favore di quelle situazioni di bisogno reale ed effettivo. In quest'ottica deve essere letto quanto segnalato dalla Commissione europea nella parte in cui ha ritenuto che l'assegno di inclusione avrebbe ridotto la platea dei beneficiari. Non si tratta di una riduzione, ma al contrario di una selezione a monte in luogo di una meno razionale revoca a valle. Del resto è evidente che un sistema basato su controlli a valle, oltre a determinare un ingente dispendio di risorse umane e strumentali della pubblica amministrazione non efficiente, ha posto e pone il più complesso problema del recupero delle risorse erogate in favore di soggetti risultanti non in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa. Ciò che invece occorre valorizzare dell'analisi della Commissione europea è il dato sull'innalzamento delle risorse erogabili grazie alle misure introdotte da questo Governo. Si legge infatti nella citata analisi che questo profilo rappresenta uno sviluppo positivo. È indispensabile poi chiarire che il Comitato Scientifico non ha affatto bocciato la misura di cui si discute, così come occorre precisare che i dati evidenziati dagli onorevoli interroganti non trovano riscontro. Al contrario, dalla relazione emergono questi elementi. I dati sull'avviamento al lavoro di 1,2 milioni di beneficiari nell'ambito del reddito di cittadinanza non sono corretti. Fino alla metà del 2021 infatti non era nemmeno possibile stimare le persone avviate e prese in carico anche per via della pandemia. A fronte di 2 milioni di persone in età di lavoro, stima IMSS, solo 446 mila hanno sottoscritto il patto di servizio e gli incentivi per le assunzioni previste per i beneficiari del reddito di cittadinanza sono stati attivati per meno di 2 mila persone. Dall'analisi delle comunicazioni obbligatorie emerge poi che 297 mila beneficiari hanno trovato un lavoro durante la percezione del sussidio, ma è sei probabile che abbiano continuato a percepire il sussidio fino alla scadenza o quantomeno fino all'aggiornamento dell'ISE. In definitiva, i dati registrati consentono di ritenere che i mutamenti nel mercato del lavoro, in vicegenza del reddito di cittadinanza, sono piuttosto gli effetti di tendenza spontanea e non di un concreto impatto della misura, tant'è che nei settori in cui è maggiore la presenza di occupati poveri, le prestazioni sommerse hanno un'incidenza tre volte superiore alla media generale degli occupati. Chiarito pertanto che non vi è alcuna bocciatura della misura, neppure da parte degli organi dell'Unione Europea, e intenzione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali proseguire nelle linee di intervento introdotto dal Governo, compreso l'assegno di inclusione, che in soli sei mesi ha dato prova di concreta efficacia, le cui potenzialità di sviluppo sono state riconosciute dalla stessa Commissione Europea. A facoltà di replicare il deputato caro Tenuto, prego. Capisco la necessità di parlare tanto per cercare di trovare delle giustificazioni a quello che non è giustificabile, signora Ministro. Le sue risposte descrivono però una realtà inesistente. Viste le conclusioni del Comitato Scientifico e della Commissione Europea, immaginiamo che le persone dotate di raziocinio si stiano chiedendo perché eliminare una misura che riduce la povertà e sostenere i lavoratori poveri, a maggior ragione in un momento storico delicato come questo. Certo non è stato per via delle frodi, perché i numeri forniti dalla Guardia di Finanza parlano molto chiaro. Le truffe denunciate dal 2019 sono state circa 53.000 su 3,2 milioni di beneficiari. Parliamo quindi dell'1,6% del totale. E allora insomma, la logica messa in piedi da voi ha portato a punire il 98,4% dei beneficiari del reddito di cittadinanza perché l'1,6% dei ex beneficiari ha avuto accesso alla misura in modo fraudolento. E' come se togliessimo la cassa integrazione perché alcuni imprenditori hanno truffato l'Inps durante la pandemia. Magari potremmo chiedere cosa ne pensa di questo il ministro Santanchè. D'altra parte, la vostra è un'idea di paese fondata sul principio della prevalenza del profitto sul diritto, la legge della giungla, dell'uomo che ha pieno diritto allo sfruttamento del suo simile per generare profitto e di uno Stato che mira ad aumentare il numero dei poveri per dare agli sfruttatori risorse umane per generarlo. E quindi siamo qua a parlare ancora di reddito di cittadinanza mentre dovremmo occuparci di lavoro povero, di un reddito magari universale visto le sfide che ci propone l'intelligenza artificiale. E invece questo governo che fa? Continua a non guardare che un lavoratore su dieci nel nostro paese si trovi in condizioni di povertà mentre i grandi manager delle partecipate di Stato, delle società private guadagnano cifre da capogiro. Parliamo di cifre centinaia, centinaia di volte più alte dei loro dipendenti. Ecco, questo francamente lo troviamo inaccettabile. Questi fatti però sono oscurati da un sistema mediatico che poi è condotto dagli stessi burattinai che sfruttano l'assenza di regole e che beneficiano dello sfruttamento dei lavoratori. Questo è uno dei pochi spazi liberi, cittadini, liberi per comunicare alle persone. Qui non si può censurare la disarmante realtà dei fatti, la descrizione del cinismo di questo governo. Come per il momento, sì, concludo, Presidente, come per il momento non siete ancora riusciti a censurare il programma Report che proprio nell'ultima puntata ha dimostrato come i vostri conflitti di interesse, Ministro, quelli sui e di suo marito generano un sistema drammaticamente pericoloso per la salute dei lavoratori. Proprio qui, in un Paese dove le statistiche parlano di tre persone al giorno che muoiono sul lavoro, che non tornano ai loro cari. Tre persone che se potessero contare ancora sul reddito di cittadinanza si rifiuterebbero di accettare lavori che le spongono al rischio di morte per sfamare le loro famiglie. Grazie. Lei